Comprendere le proprie emozioni è di fondamentale importanza se vogliamo gli obiettivi nella nostra vita. La nostra parte emotiva comunica continuamente, non ci lascia mai senza un messaggio, soltanto che noi non riusciamo a comprenderlo se non ne impariamo i codici. La nostra comunicazione, la nostra parte emotiva comunica in modo analogico, in modo non verbale e soprattutto comunica attraverso il nostro corpo, perché il nostro corpo è, diciamo, fatto di energia e le emozioni sono fatte di energia. Emozione è energia in movimento. E non c'è molta differenza tra l'energia di un'emozione e l'energia del corpo. Immaginate il corpo come se fosse un grande ricettacolo che è scosso, diciamo, dalle emozioni e in qualche modo reagisce, in qualche modo risponde. Ad esempio, le persone che vivono un'insicurezza è perché la parte emotiva gli sta comunicando che non è soddisfatta e allora si sta procurando, diciamo così, le vettovaglie emozionali producendo insicurezza, ad esempio. E noi se vogliamo capire le nostre emozioni, che cosa ci stanno dicendo, in prima istanza dobbiamo osservare noi stessi, ma senza fare neanche grosse introspezioni. Osservare se stessi, osservarci come interagiamo con gli altri, osservare quelle che sono le nostre paure. Se abbiamo delle paure senza una reale motivazione, ad esempio, è perché la nostra parte emotiva non è soddisfatta e quindi ci sta facendo vivere quel tipo di emozione. Cosa vuol dire? Cioè, è ovvio che una paura... Quando è che una paura non è motivata? Quando non esiste un motivo logico e razionale ad avere quella paura, insomma. Certo che uno se vive in un paese di guerra può avere tranquillamente paura di uscire di casa, ma una persona che ha paura di parlare in pubblico per dire piuttosto che paura di interfacciarsi con le persone, non c'è una reale motivazione in tutto questo, perché di fatto non si corre nessun rischio. ma la cosa fondamentale è che però la parte emotiva te la fa vivere lo stesso, per manifestarti il fatto che non è soddisfatto. Quindi, quando hai una paura, prendi questa paura come se fosse veramente un'informazione. Un'informazione è anche, diciamo, il tuo corpo, come reagisce, come si muove, se hai delle rigidità, se hai dei blocchi e tutto parla di emozioni. Una volta che uno però ha capito come fa a sbloccare, beh, come fa a sbloccare e inizia a dare, a dare emozioni, perché la parte emotiva è quello che vuole, quindi è il tuo stile di vita poi, è inutile. Come diceva Battiato, non esistono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita e questo è, cioè non puoi pretendere di continuare a fare esattamente la stessa vita che prima faceva schifo alla tua parte emotiva, la tua parte emotiva ti sputtava in faccia e continua a fare la stessa vita e, diciamo, però pretendi che la parte emotiva invece sia contenta e non abbia più bisogno di emozioni. Certo, la puoi prendere in giro per un po', come potresti prendere in giro per un po' un tuo amico o una donna, diciamo, o un uomo per un certo periodo, ma non certo per lungo tempo. Quindi è il fatto che deve avere il coraggio di fare delle azioni, questo coraggio devi trovarlo dentro di te, serve la motivazione, altrimenti se non fai nulla, continua così, però almeno non lamentarti perché sai che è causa tua, insomma, e che è causa del suo male, eventualmente dovrai piangere se stesso, ma non andare in giro a, diciamo, rompere le scatole agli altri. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi anche sul blog istituzione.com. Ciao!